Ciao, oggi parliamo di infografiche. Cos'è un'infografica? È un modo per raccogliere delle informazioni usando pochissimo testo e privilegiando immagini o icone o grafici uniti tra di loro da frecce. L'infografica è molto utile perché in una sola pagina fa tornare alla mente tutte le informazioni importanti che riguardano un argomento. Quindi ad esempio per sintetizzare un argomento di studio l'infografica può essere molto utile. Vediamo come si può con Canva realizzare un'infografica. Apro come al solito la mia pagina di Canva, crea un progetto e posso già scegliere infografica. Noi oggi vedremo due modi per preparare un'infografica partendo da un modello già proposto da Canva oppure partendo completamente da zero, da una pagina bianca. Ti ricordo facciamo un passetto indietro che se io vado qua oltre a arrivare all'infografica cliccando crea un progetto nuovo posso anche arrivarci sfogliando la pagina iniziale. Vedi che qui tra le varie proposte ti dice infografica e arrivi alla stessa pagina di prima. Cerca nei modelli di infografica. Scegliamo infografica didattica perché in questo momento stiamo parlando di un lavoro per la scuola. Il primo consiglio che ti do è questo. Anche se decidi di utilizzare un modello proposto da Canva, quindi di semplificarti il lavoro in un certo senso, prima di cominciare a lavorare, tu devi avere già steso il tuo progetto. Cioè devi già sapere che cosa andare a cercare e devi avere già procurato il materiale che ti serve. Perché? Perché all'interno dei modelli, anche se noi mettiamo il nostro filtro gratis per andare a vedere solo modelli che possono essere utilizzati da tutti, ne troviamo tantissimi, di tantissimo genere. Allora, se io non metto una scelta qua, io ne trovo talmente tanti, ma talmente tanti che ora che ho scelto quello che mi serve, sono passati dei giorni. Allora, io posso restringere il campo intanto andando sul didattico che è quello che può servirmi di più. E poi devo avere già in mente il motivo preciso per cui mi serve creare questo lavoro. Immaginiamo di dover spiegare le fasi di un prodotto che dobbiamo realizzare. Allora, io vado qua nella colonna e questo, ad esempio, potrebbe essere quello che fa al caso mio. Clicco ed ecco quello che accade. Nella colonna di sinistra mi si affrono due pagine. Allora, la prima pagina sulla quale io clicco, ecco, mi viene poi riportata nella mia lavagna di lavoro. Poi però io ne ho un'altra di pagina, apriamola in una pagina nuova così si vede bene, che è la pagina delle risorse. Se ti ricordi, se hai guardato la lezione sulle presentazioni, ti ricorderai che nei modelli di presentazione, alla fine, proprio come ultima pagina, come ultima slide, c'era sempre una pagina di risorse. Cosa vuol dire? Vuol dire che io qua trovo gli elementi, gli stessi elementi che ho trovato sulla pagina precedente. Le apriamo qua così magari si vede meglio. Vedi? Sono le stesse. Io posso prenderla, trascinarla tenendo il mouse cliccato e inserirla dove voglio. Una volta che io ho scelto il mio modello di infografica, ormai sai già che puoi cambiare qualsiasi cosa. Beh, intanto qui il titolo non c'è, quindi dovrò inserire il mio titolo. Benissimo, posso modificare questo sottotitolo inserendo una breve spiegazione di quello che voglio dire e poi posso cambiare qualsiasi elemento. Ad esempio lo sfondo. Adesso io metto dei colori a caso tanto per farti vedere le variazioni. Cambio le dimensioni. Cambio le illustrazioni. Basta che io vado a su elementi e cerchi. Adesso ovviamente ne ho presa una a caso. Ti ricordo che se io scelgo grafiche mi vengono date quelle senza sfondo in modo che io le possa piazzare ovunque senza problemi. Quindi partire da una grafica già pronta è molto semplice. L'importante è avere bene in mente quello che si vuole fare perché in questo modo io vado a cercare già con un'idea e non perdo troppo tempo. Vediamo invece quello che posso fare partendo invece da una infografica vuota, da una pagina vuota. Allora torno nella home page, crea un progetto, infografica e a questo punto io ho semplicemente una pagina bianca. Per la dimostrazione di oggi io ho fatto finta di dover preparare una infografica che riunisca i pittori futuristi italiani, i maggiori pittori futuristi italiani. La prima cosa che io ho fatto è stato di andare a cercare il materiale che mi serve. Abbiamo detto infografica, quindi poche parole, pochissimo testo e soprattutto delle immagini. La prima cosa che posso fare anche a livello provvisorio perché poi magari una volta che avrò inserito le immagini deciderò di cambiarlo è dare un colore al mio sfondo, anche proprio una cosa molto leggera, tanto per far risaltare gli elementi che poi metto dentro. Inserisco un titolo e sarà, non lo so, futuismo. Questo titolo lo ingrandisco, lo metto centrato. Ricordati sempre, vedi che compaiono le linee guida che ti aiutano a inserire gli elementi in modo corretto. Cambierò il font perché è così, insomma, questo è un po' troppo semplice. Ecco, ad esempio lo metto così. Futurismo, benissimo. Dopodiché io ho già in mente un progetto, anche perché partendo da zero non posso cominciare a fare gli esperimenti così a caso, altrimenti non finisco più. Io voglio una cosa molto semplice, voglio dividere a metà questa pagina e inserire da una parte e dall'altra le immagini dei pittori italiani più importanti con la data della loro vita. Una cosa molto semplice perché poi in realtà, quando dovrò esporre il mio argomento, sarò io che parlerò. Ricordati sempre che in un'infografica bisogna scrivere il meno possibile. vado su elementi, vado su linee e forme. Io potrei scegliere una linea molto semplice da inserire qui per dividere a metà la pagina. L'allungo, poi posso aumentare lo spessore, posso anche cambiarlo, mettere i puntini. Però, insomma, diciamo che è poco creativa come idea. Quindi tolgo questa linea e scrivo nella casella di ricerca linea decorativa. e poi, come al solito, vado su grafiche dopo aver applicato il mio filtro, se è il caso di applicarlo. Vado su grafiche perché in questo modo io ho la possibilità poi di modificare la mia linea come voglio. Ad esempio, scelgo questa. Intanto la capovolgo perché a me serve una linea verticale. Vedi che, allora, quando io clicco questo che è il pulsantino per muovere gli elementi, vedi che ti vengono dati i gradi. A cosa serve? Serve a posizionare l'elemento in modo preciso. Ad esempio, io partivo da una linea orizzontale e la volevo mettere verticale. Io so che verticale perfetta è 90 gradi. Ecco, in questo modo io sono sicura di aver posizionato in modo corretto la mia linea. Linea che aumenterò. E poi sistemerò, sempre aiutandomi con le mie linee guida, esattamente nel centro della pagina. Questa sarà la mia linea di divisione. Che cosa voglio fare? Poi io voglio inserire delle lineette da una parte e dall'altra per indicare l'immagine o i dati che vado a inserire. Per rimanere sullo stesso stile non faccio altro che inserire nuovamente la linea, rimpicciolirla al massimo. Questo è il massimo. Bene. A me interessa soltanto questa parte più sottile. Taglia. Tolgo via la parte più grossa e mantengo la parte sottile. e ne metterò una di qua, poi faccio duplica, così ce l'ho già posto, la capovolgo dall'altra parte, in questo caso dovrò guardare perfettamente 180 gradi, ecco, per averla orizzontale, e la inserirò da questa parte. Tutte le volte che io avrò bisogno di inserire una lineetta non faccio altro che dirgli duplica e ne avrò un'altra magari qui, e un'altra qui. Benissimo. Io ho già caricato, per abbreviare il tutorial, le immagini che mi servivano. Un'immagine, una fotografia di Boccioni e un paio di suoi dipinti. Io potrei inserirli così, piazzandoli in questo modo, intorno al suo spazio, a quello che io ho deciso che sarebbe stato il suo spazio. E da questa parte invece della lineetta vado a scrivere la data della sua vita. Quindi ovviamente userò lo stesso carattere che ho utilizzato per il titolo. Ricordati sempre che ci vuole stile e lo mettiamo qua. Quindi io qui ho messo due dipinti e l'immagine e qui ho messo la data di nascita e di morte. E poi posso procedere andando avanti, inserendo qui un'altra data e magari da questa parte, per evitare che vadano contro uno contro l'altro, inserire la foto e i dipinti di un altro personaggio. Ti do un'alternativa e la utilizziamo per un altro autore. Così puoi vedere la differenza e poi sceglierai tu quello che preferisci. Io torno in elementi e vado a prendere griglie. Ecco qua. Queste sono delle forme che ti danno la possibilità di inserire delle immagini in uno spazio definito, sistemandole automaticamente. Io ho di nuovo caricato, vedi, in caricamenti, Carrà e due suoi dipinti. Quindi io sceglierò una griglia che mi dà la possibilità, ecco ad esempio questa, di inserire tre immagini. Se io clicco, la griglia mi viene aperta su tutta la grandezza della pagina. A me non interessa, ma io la prendo, la rimpicciolisco. Vedi che posso anche cambiare la dimensione. Allora, la piglio, io so che andrà qua, quindi la stringo un attimo, la alzo un po' di più e poi come faccio? Vado sulle immagini che ho caricato, trascino l'immagine e la faccio coincidere con la forma nella quale voglio inserirlo. Automaticamente poi lui si sistema da solo. Poi cosa faccio? Prendo il dipinto, lo trascino e lo lascio andare. Prendo l'altro dipinto, lo trascino e lo lascio andare. Io non ho fatto altro che inserire foto e due dipinti esattamente come qui. Allora, il vantaggio di questo è che li posso tenere un po' più grandi e posso sistemarli così in modo magari un po' più creativo. Qui invece io ho qualcosa di più ordinato e un po' più compatto. Va a gusto personale e dipende anche da quello che ti serve. Cioè, se ti serve fare un lavoro più creativo li puoi lasciare così. Se invece ti serve fare qualcosa di più ordinato, allora puoi utilizzare le griglie. Potresti anche inserire degli elementi senza utilizzare una griglia già fatta. Puoi utilizzare ad esempio delle forme. Vai su forme. Ecco. Scegli una forma, la metti qui, la puoi ingrandire. Come al solito puoi cambiare il colore o utilizzando questi o scegliendo un colore nuovo. E poi inserisci all'interno della forma l'immagine scelta. Ovviamente più che inserita sarà sovrapposta. Quindi dovrai poi modificarla. Se vuoi dare all'immagine la stessa forma circolare, ad esempio in questo caso, non fai altro che tornare su elementi. Puoi scegliere di nuovo cornici, in questo caso questa. Inserire nella cornice, vedi che automaticamente lui te la cambia. E poi ridimensionare la tua immagine, magari per lasciare semplicemente un po' di colore dietro. Vedi come se fosse una cornicetta colorata. Questo è un altro modo che tu hai per inserire delle immagini. Puoi anche scegliere, io ti consiglio sempre di scegliere grafiche, un'altra immagine da aggiungere alla tua infografica. Adesso io prendo la prima per far prima. Questa è un'immagine, quindi tu la potrai posizionare esattamente come abbiamo imparato a fare dietro, oppure sovrapposta, oppure come preferisci. Puoi anche semplicemente, non lo so, renderla un po' trasparente perché sia meno evidente, perché può dare fastidio. Ecco, puoi tenere questa lunga. Quindi puoi utilizzare per la tua infografica tutti gli elementi, tutte le cose che abbiamo imparato a utilizzare nei tutorial, nelle lezioni precedenti. L'importante è che tu abbia già in mente un progetto, perché, ripeto, se ti metti a sperimentare tutto quanto senza sapere dove vuoi arrivare, ci metti veramente tanto, tanto tempo. Se la tua infografica non è da stampare, ma è da far vedere, vedi, scegliendo forme dinamiche, tu puoi anche utilizzare delle forme in movimento. Ad esempio, anziché inserire la foto all'interno di una forma statica, potresti decidere di metterla qua. Ovviamente posizione in avanti e quindi lasciare dietro questo movimento in questo modo qui. Questo potrebbe essere un'idea originale che evidenzia magari un'immagine su cui vuoi che l'attenzione venga focalizzata. Quindi, questo per dire cosa? Per dire che anche in un'infografica tu puoi utilizzare tutto quello che Canva ti mette a disposizione. Il segreto per una buona infografica è avere le idee chiare, scrivere pochissimo, inserire degli elementi che siano significativi e poi prepararti un bel discorso. Per oggi abbiamo finito, ti aspetto alla prossima. Buon lavoro!